Allora Presidente, ci siamo? Oh, ci siamo? Presidente, mi raccomando, eh? Io la tangente la sto pagando. Non lo faccio per nessuno. No, non lo diciamo a nessuno. Allora, cosa sei convinto? Il costo è forte, eh? Aspetta, che c'è ancora qualcosa altro. Ah, vieni, guarda. Ah, ecco, adesso va bene. No, io va bene, ok. Stacca perché me li ha presi, avete visto? Bastardo! È un amico, è un amico. Ragazzi, dalla Romagna. Il diavolo è l'acqua santa. La gente va rispettata per le idee, per le persone che sono. Basta con questi colori, avete rotto i coglioni. Ciao.